ci siamo vaiù come cinque anni fa il cerchio che si chiude da gulibali arraspadori la stessa porta vaiù grazie 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 spalletti grazie dei laurentis grazie a tutti ne manca una una e dopo 33 anni grazie ma io vi posso dire solo grazie perché è un'emozione indescrivibile l'ho provata con culipari cinque anni fa ma molto più forte quest'anno io non so che dire io vi amo questa è la dimostrazione che quel meno 15 era fasullo in napoli è evidentemente più forte vaiù continuo a ribadire da gulibali arraspadori il cerchio si sta chiudendo questa volta però non lo perdiamo a firenze nell'albergo quest'anno lo portiamo a napoli al maradona grazie grazie che dire non ci stanno parole non ci sono parole solo lacrime